Il Palmintelli torna a ospitare una partita della Nissa. Vista l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli, che si spera torni al più presto fruibile con il nuovo manto erboso sintetico, la squadra di Alessandro Settineri giocherà il recupero della seconda giornata di campionato nel campo sportivo di Viale della Regione. Un impianto costruito negli anni trenta del secolo scorso, al quale gli sportivi nisseni sono profondamente legati, anche se sono sempre più lontani i fasti di un tempo, quando la Nissa militava in Serie C e si confrontava con squadre blasonate, Regina, Juve Stabbia, Nocerina, Cavese e Frosinone su tutte. Oggi la realtà si chiama eccellenza e il presente propone Nissa, oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, in programma domani nel campo sportivo di Viale della Regione, fischio d'inizio alle ore 16. I biancoscudati inseguono il primo successo dopo due sconfitte contro Casteldaccia e Acragas. Anche l'oratorio San Ciro e Giorgio, che punta alla salvezza, non attraversa un buon momento. Domenica scorsa la formazione biancorossa è stata battuta sonoramente in casa dal Casteldaccia, 1-0-3 con poche attenuanti. Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere a una partita tirata e combattuta. In casa Nissa c'è voglia di riscatto e una vittoria, al di là dei tre punti, servirebbe soprattutto per tirare su il morale di giocatori e tifosi.